sono da questo momento in cui signore e signori suoni ufficiali molto bene bravo si si non accade nulla per caso oggi signore e signori tutti quanti al pinente Luca Luca DJ e a seguire Luca Bruno Canci sono i miei amici Marco Charlie Max e Lovio tutti presenti tutti quanti tutti presenti oggi dai non accade nulla per caso questa sera dai succede solo qui oggi i miei amici Luca Luca ci siamo tutti oggi ci siamo tutti quanti oggi dai ci siamo tutti quanti oggi dai siamo qui oggi yeah yeah so ovviamente in questo momento non è l'ultima l'ultima